S.O. Luna, una bella vittoria, però se non c'era quel gol tuo nel finale, sul 5-3 potrebbe essere più sofferto. No, in verità me ne sono mangiati tanti, quindi un golletto glielo dovevo anche regalare ai miei compagni. Abbiamo corso tanto, stiamo imparando ad essere ordinati soprattutto in fase di non possesso e i risultati si iniziano a vedere. Quest'anno abbiamo due o tre alimenti in più che ci possono dare una mano a far bene. La solita grinta vostra, abbinata anche a più tecnica quest'anno con gli inserimenti. Esattamente, abbiamo tentato di mantenere la mentalità LG, aumentando la qualità degli interpreti. I risultati stanno venendo, speriamo di continuare su questa strada. Intanto arriva questa qualificazione, si va avanti nella Coppa. Sì, la Coppa è micidiale, ogni partita è una storia a sé. Sì, speriamo di continuare così e di non fare passi falsi perché la Coppa non perdona. Quindi l'obiettivo quest'anno è di alzare un po' più il livello. Non giochiamo mai nemmeno per pareggiare, noi giochiamo solo per vincere. Perfetto, allora buon proseguo, grazie. Grazie mille, arrivederci.